Bella ragazzi ed eccoci tornati in un nuovo episodio su WWE 2K15 ed ecco qui un messaggino da parte di Triple H Alle Miracle contro Neville per il titolo NXT, questo è molto più di un semplice match, potrebbe essere il match dell'anno Tutti dovrebbero sincronizzarsi su NXT Anche William Regal si aggiunge ai social media Questo match per il titolo NXT è vitale per la tua carriera, vincerlo consoliderà la tua posizione nella WWE Non farti sfuggire opportunità del genere Ed eccoci qui al match per il titolo dopo una serie di messaggini ingombranti da parte di Triple H e William Regal Ecco il match per il titolo Alle Miracle contro Adrian Neville Ecco qui l'ingresso di Alle Miracle ragazzi E come potete vedere ho cambiato il colore del costumino Eccoli il secondo colore giallo ragazzi, proprio come i colori della NXT Nero e giallo E sono pronto a tutto ragazzi, questo è un match per il titolo Ovviamente non è un avversario facile Adrian Neville, Adrian Neville O come cacchio lo volete chiamare Non sarà un avversario facile Ecco qui Alle Miracle che si presenta E poi ecco l'ingresso Del campione attuale della NXT Attenzione Quindi Adrian Neville contro Alle Miracle Schippiamo perché del suo ingresso Non me ne frega una cepa Attenzione ragazzi Attenzione Importantissimo match Eccolo lì Il titolo NXT La cintura Per diventare campione L'arbitro Sta mettendo in palio Questo trofeo importantissimo Per iniziare la mia carriera Neville è gasatissimo Sicuramente non sarà un incontro facile Ecco che l'arbitro Decreta L'inizio del match Neville rimane fermo Stranamente Io ne approfitto subito Ancora Doppio Stessa mossa ragazzi Neville è rimasto appeso Che cacchio fa To To Attenzione Attenzione perché cominciano i giochini qua Devo cercare di stare attento Dov'è? Dov'è? Qua Trovato To Non è finita Cacchio mi ha fregato Attenzione Match ingombrantissimo Io cerco subito di ribaltare la situazione Lo riprendo immediatamente Mamma mia che match Mamma mia che match ragazzi Match per il titolo Adesso Neville si sistema I pantaloni Ma perché Si sistemava le mutandine Al posto di venirmi addosso È un match abbastanza tranquillo Per Neville Forse probabilmente Pensa di poter vincere facilmente Ma Anche se vincerà lui Gli darò del filo da torcere Questo è poco ma sicuro Bloccato E serie di cartelle E to E porca miseria Stai giù stavolta Neville Stai giù per favore Fammi vincere questo titolo Attenzione perché È in una situazione Difficile Neville Quindi vuol dire che ci sono Delle possibilità di poter vincere Questo titolo da parte mia Non è ancora tutto da buttare Ma perché sto picchiando le corde Vieni qua Porca miseria Ha ribaltato la situation Va caccia miseriaccia No Eeeh Un moonsault Al contrario Come cazzo l'ha fatto Aia Basta pure sulle corde Sono andato a sbattere Lasciami Ecco qui Ribaltozzo Bam E ora sei di schiena Amico Ribalti Sto cacchio Bam Ginocchiata nel culetto Di Alemir E non mi arrendo Continuo a dargliele di santa ragione I calcettini Ormai classici Poi vado sul busto Vediamo cosa succede Che cacchio gli sto facendo Bam Questa non te l'aspettavi Neville Sbam I fratelli Neville Che giocavano nel Manchester United Com'è che si chiama Gary Neville E Phil Neville Attenzione Sbam Mamma mia Che aggressività Da parte di Alemiracle Neville è veramente In difficoltà La cintura È Veramente A un passo Da Alemiracle Ne devo approfittare Ne devo approfittare Del fatto che Neville Veramente Si sta facendo Distruggere Abbastanza tranquillamente Attenzione perché Ho sbloccato la bossa speciale Ma Neville Ribalta la situazione No no Sulle corde no Neville fai piano Fai piano Porca di quella merda Lasciami Non scorreggiare Eh Aia Porca puzzola Questa era Potentissima Cosa fa Rialza Tiale Rialza Merda Neville sta cercando Di recuperare tutto Quello che ha perso Ribalto la situazione Sapevi che avrei Ribaltato tutto Ma ribalta anche lui Ragazzi Che match Che match No No Ti ho fregato Ti ho fregato Ti ho fregato Oh Che cacchio ha Beccati questa Spinebuster Attenzione perché ho sbloccato La twist of miracle La faccio Non me ne frega niente Anche se lui ha abbastanza energia La faccio per cercare di chiudere il match Si rialza Neville Twist of miracle Bam Attenzione Anch'io non ce la faccio già più Ma com'è Dai Ale Valla a schienare subito Non perdere tempo Ed ecco qui Neville Che ha schienato Uno Due Tre E vince E vince Vince la cintura Le miracle È stato più facile Del previsto Non mi aspettavo da Neville Questo tipo di reazione Ma la twist of miracle Questa volta ha fatto il suo dovere E c'è rimasto sotto Neville Ho fatto anche fatica Andarlo a schienare Andarlo a schienare Porca misere Grandissimo Guardate qui Bam Twist of miracle Dopo una spine buster L'ho lanciato sulle corde Probabilmente è stato questo Che lo ha distrutto L'ho lanciato sulle corde L'ho ripreso con una spine buster E poi A twist of miracle Guardate la felicità Di quest'uomo Ale miracle È contentissimo The superstar Assolutamente Un nome del cacchio Non c'era Miracle Man E quindi Però l'ho lasciato questo Ma guardate la felicità La cintura NXT È di Ale miracle Ma guardate la felicità